8 su 8, non si ferma la corsa del frosinone pallannuoto che vince ancora e si conferma al comando della classifica del campionato nazionale di Serie C. Allo stadio del nuoto i giallazzurri di Fabrizio Spinelli hanno battuto 15-8 il fanalino di coda Swim Action al termine di una gara dominata e vinta con pieno merito. Sono soddisfatto della partita, ha dichiarato l'allenatore Fabrizio Spinelli. Abbiamo avuto modo di far giocare tanti atleti che avevano avuto poco spazio e siamo riusciti a far esordire anche Rea, un altro 2009 del nostro settore giovanile. La gara è stata un buon test a livello atletico visto che venivamo da una settimana di allenamento molto intensa. Adesso dobbiamo restare concentrati. Il frosinone pallannuoto sale a quota 24 punti e resta in testa la classifica a punteggio pieno con 6 lunghezze di vantaggio sull'Antares Latina. Prossimo appuntamento il derby contro la Bella Tor Frusino. La gara si gioca sabato alle 19.30 allo stadio del nuoto di Frosinone. Nei campionati giovanili pareggio 7-7 degli allievi del frosinone pallannuoto contro l'Antares Latina. Partita non bellissima quella giocata dai ragazzi di Massimiliano Murgia che torneranno in campo domenica 17 marzo contro il nuoto 2000. Prima partita e prima vittoria invece per gli esordienti di Federico Ceccarelli che hanno superato 6-4 a ventino.